E in questi anni quello che ho cercato di fare, ho cercato di capire qual era la differenza che faceva la differenza, quindi come pensavano i ricchi, come pensavano i poveri, come pensava la classe media e andando a parlare con questi tre tipi di persone, quindi non so se mi avete seguito su Facebook ma l'anno scorso ho avuto la possibilità di stare in vacanza con Richard Branson, tra qualche settimana saremo con Renzo Rosso e anche lì Renzo ha un modo di pensare che è totalmente diverso rispetto agli altri, non a caso ha creato un impero in un settore che era dominato dagli americani, quello dei jeans. L'andare a capire qual è la differenza che fa la differenza è stata la parte più importante in questo viaggio che dura ancora ma che mi porta ad alzare l'asticella sempre per me stesso ma poi anche per le persone con le quali collaboriamo e per i nostri clienti. Quindi se guardate effettivamente il mondo è cambiato. Grazie a tutti.